Non credo che sia il caso di cercare alibi e di mettere motivazioni che non ci sono. Io credo che la squadra non è partita come tutti si aspettavano noi per primi e bisogna immediatamente cercare di risolvere le problematiche. Non drammatizzare eccessivamente, però da martedì lavorare con più cattiveria e più intensità e questo probabilmente dipende anche da noi. Oggi sono passati 48 secondi quando noi abbiamo preso il calcio di rigore, quindi a Tolentino erano passati 8 minuti e probabilmente è una lacuna, ma ripeto, finito il primo tempo niente lasciava presagire a una partenza così e poi ripeto, preso il calcio di rigore c'erano ancora 44 minuti più il recupero. Penso che facendo cose un pochino più sensate e ordinate, prendere le decisioni giuste nel momento giusto, perché la mia squadra ha quello che ha sbagliato secondo me è quello, le decisioni nei momenti importanti della partita sono state tutte decisioni sbagliate, quindi non va bene. Bellissima vittoria contro un avversario molto forte che chiaramente è partito con ambizioni importanti e noi sappiamo che per fare oggi il risultato serviva una prestazione di squadra di spessore, di alto livello, come questi ragazzi sono in grado di fare e come per l'ennesima volta lo hanno dimostrato. È stata una settimana non facile, perché quando una squadra come la nostra si trova a cambiare un po' anche il modo di allenare, anche l'orario stesso dell'allenamento, ci sono delle abitudini che cambiano, ci sono delle novità e oggi mi sento di dire che abbiamo risposto tutti quanti come una squadra che sa quello che vuole, che sa come affrontare il campionato, che sa come affrontare questo tipo di partite.